signore e signori buona giornata siamo qui con l'avvocato domenico sagui pascalin per riprendere la nostra conversazione iniziata la settimana scorsa esattamente il giorno 18 in verità non è proprio la settimana scorsa ma quasi è sul tema dell'europa allora abbiamo parlato la volta scorsa con le strutture delle strutture dell'europa cioè le cose che fanno funzionare questo gruppo di nazioni che sono gli europei parlando dell'unione europea quindi abbiamo detto le cose essenziali però la domanda che subito ci viene che cosa ci dà l'unione europea l'unione europea può darci tante cose tra cui anche delle direttive anche delle leggi anche dei consigli anche dei pareri con su queste cose vogliamo sentire un esperto qual è l'avvocato pascalin il quale ci dirà da prima che cosa è un regolamento tanto buongiorno a tutti il regolamento è l'equivalente della nostra legge uno dei cinque strumenti che i trattati istitutivi dell'unione europea prima ancora riprendendo quelli della comunità europea del 57 hanno previsto per creare un diritto europeo un diritto comune regolamento dunque è un atto generale equivalente alla legge ed è direttamente applicabile nei confronti degli stati e dei cittadini europei la direttiva invece quindi se ho ben capito mi pare che questo provvedimento cioè non può essere discusso il regolamento va soltanto applicato si contiene una disciplina che vuole essere dettagliata e completa e uniformante per cui si applica indistintamente nei confronti di tutti gli stati membri senza che il singolo stato lo debba adattare come al contrario viene invece con la direttiva ecco la direttiva è proprio si differenza per questo perché ci sono delle direttive ma devono essere presentate dallo stato cioè adattate devono essere recepite dallo stato non passivamente ma c'è adesso un processo di adattamento perché la normativa dettagliata quella viene ritrascritta come tale mentre la normativa più di principio deve essere adattata all'interno del singolo stato quindi richiede una partecipazione diretta dei singoli stati membri quello che invece non avviene per i regolamenti perché già compiuto di suo noi abbiamo tanti regolamenti o pochi regolamenti all'inizio agli esordi con la comunità europea si è fatto largo uso del regolamento perché vi era la necessità di creare un mercato comune fra soli sei stati quelli che avevano dato vita alla comunità europea quindi era molto più facile andare d'accordo ora con 27 stati è molto più difficile dettare una disciplina uniformante ci sono troppe differenze per cui si fa più uso della direttiva perché in questo modo l'unione europea obbliga i singoli stati a convergere su un obiettivo detta una disciplina minimale tal ora anche molto dettagliata però per lo più lascia ampio spazio ai singoli stati di dettare al proprio interno la disciplina necessaria di attuazione di recepimento di attuazione tu facevi alle volte il paragone dell'arrivo sulla cima del pelmo allora l'obiettivo è la cima arrivarci su ci sono varie strade una che può essere quella del regolamento obbligatoria le altre invece sono le strade che sono quelle delle direttive e allora queste direttive permettono per esempio in esempio della scalata direi che la direttiva permette di conciliare meglio il centro con la periferia il centro ci dice dove dobbiamo arrivare e ci dice anche le cose essenziali che vanno fatte per arrivare a quell'obiettivo la periferia decide il proprio percorso a seconda del proprio punto di partenza è interessante sapere quante sono le direttive che ci hanno ferito in qualche maniera ferito è una parola un po grosso ovviamente ci sono molte direttive che sono state recepite anche nell'ordinamento italiano anzi vengono annualmente recepite con la legge di delegazione europea e con la legge europea e talora in sede poi applicativa hanno creato degli indubbi malumori e questo spiega la ragione per cui ci sia stata qualche avversità nei confronti delle istituzioni europee non sempre andare di comune accordo è facile sì per esempio quante direttive vengono mediamente recepite in italia all'anno vengono recepite diverse decine entro il 28 febbraio di ogni anno il governo deve presentare con il presidente del consiglio o il ministro competente per gli affari europei una legge di delega per recepire tutte le direttive che nell'anno sono state emesse dalle istituzioni europee le direttive vengono approvate normalmente con una procedura di co-decisione non decide solo il parlamento europeo non ha un vero e proprio potere legislativo al pari dei parlamenti nazionali lo decide assieme al consiglio dei ministri competenti con una procedura assai complessa che dà luogo anche a delle difficoltà con la possibilità dell'intervento addirittura di un organo di conciliazione e una volta che c'è un accordo su un testo comune ed è approvato obbliga lo stato ad attivarsi l'italia si attiva il 28 febbraio di ogni anno con questo progetto di legge di delegazione europea la gente però vorrebbe sapere ci sono anche altre forme oltre che le due enunciate cioè il regolamento e la direttiva che vengono dall'europa questi sono i due atti legislativi per eccellenza perché contengono norme generali ed astratte e quindi che creano il diritto europeo c'è poi la decisione che è un atto sostanzialmente amministrativo perché puntuale concreto ci sono i pareri e ci sono le raccomandazioni pareri e raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti esprimono un indirizzo politico a cui gli stati possono meno aderire anche se è auspicabile aderirvi per giungere a un accordo comune è un cammino comune ma non sono giuridicamente vincolanti a differenza del regolamento e della direttiva il nostro parlamento discute qualche volta le direttive discute spesso sia preventivamente perché il parlamento italiano è preavvertito su tutte le iniziative legislative delle istituzioni europee questo è disciplinato dalla legge del 2012 che peraltro riprende una normativa precedente per cui c'è una continua chiamiamola navetta tra il governo che informa e il parlamento che viene informato e il parlamento deve dare anche delle indicazioni politiche a cui il governo si attiene poi quando presenzierà nel consiglio europeo e poi discute in fase attuativa come dicevo prima sia con la legge di delegazione europea quindi demanda al governo di fare la normativa di dettaglio ma ne stabilisce i principi e i criteri e sia poi con la legge europea perché interviene direttamente a modificare il diritto italiano tutte le volte in cui lo impone l'attuazione della normativa europea secondo te questi provvedimenti uniscono l'europa o la dividono sicuramente la uniscono questo è in dubbio sono stati fatti passi da gigante in questo senso ci sono stati anche dei dissidi perché non sempre facile camminare assieme soprattutto con paesi molto diversi con tradizioni giuridiche molto diverse con condizioni economiche sociale molto diverse all'inizio quando c'erano solo sei paesi era più facile andare d'accordo adesso è un po più difficile noi abbiamo sentito quindi che l'europa si fa sentire da noi anche se abitualmente noi non ci badiamo noi come individui naturalmente però l'italia recepisce e quindi segue questa linea di integrazione europea si va verso una integrazione e questo è certamente importante io ringrazio l'avvocato pascalini che ci ha detto delle cose interessanti è lui che è un tecnico ha parlato anche con un linguaggio proprio mentre che abitualmente noi usiamo indifferentemente i concetti e i termini dell'europa diversi da noi comunque noi ci dobbiamo avvicinare alla politica e questo lo scopo del nostro intervento quello di unificare gli sforzi per entrare a capire la politica e quindi in questo senso io lo ringrazio faccio presente che il prossimo incontro su questo tema sarà il giorno 8 e il giorno 8 si parlerà invece di un'altra maniera con cui l'europa è vicino a noi il flusso di denaro forse qualcuno dirà è meglio sentire questo ma noi riteniamo importanti tutti e due gli elementi ripeto che la prossima volta ci sarà al giorno 8 sempre noi facciamo gli incontri al centro giovane vigesimo terzo alle ore 18 e 30 sala gaio allora noi saremmo lieti di potervi ospitare grazie